Aspetta, sento puzza di fregatura dietro la palla. Beata a te, arriverà sotto la classe numero 4, cioè non so, un coltello con una coltellata perché... Allora Carmen, ora è da vedere. No aspetta, non aprire, non aprire. Ricapitoliamo, quindi abbiamo un sapone con dei sali da bagno con l'acqua dolce, un bello shampoo con la tinta per i capelli. Shampoo alla salsiccia tra l'altro. Sì, no shampoo a secco, shampoo vero. Shampoo vero, esatto. Poi un piatto di spaghetti, uno per ogni giorno, fino alla prossima puntata di lunedì, esatto. Quindi tutte queste cose, tutte e tre, come dice Vladimir, c'è un ma. Un ma. Tu lo sai che c'è una condizione. E qual è? Per avere tutto quello che hai visto. Un ma che... Ed è il contenuto della quarta cloche. Apri pure. Ecco l'uccello padulo, arriva. Vai, vai, vai. Cos'è? Cosa devo aprire? Una simbologia abbastanza chiara. No, tu non devi aprire niente. Un cuoricino con una chiave. Che devo aprire? Quelle sono le chiavi di un monolocale in cui tuo figlio e Maria Laura, quindi la tua futura nuora, potrebbero fare già delle prove di condivenza, una specie di prima casa. Quindi, Carmen, lo stomaco è pieno, ma il fegato è ingrossato. Grazie. 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 Grazie.